Siamo con Stefano Scutigliani, amministratore delegato di Metal Castello. Abbiamo appena finito di incontrare 300 ragazzi riuniti al cinema di Porretta a parlare di cultura tecnica, formazione, ma non solo di questo. Perché è importante oggi incontrare ragazzi e parlargli di queste cose? L'Emilia Romagna è tra le regioni a vocazione manufatturiera più importanti in Europa e nel mondo. Come fai a portare avanti questa eccellenza se non hai coloro che ti possono rimpiazzare nel futuro? Dobbiamo cercare di trovare la motivazione giusta per spingere i nostri giovani a affrontare il mondo con più carica e con più ottimismo e cercando di credere nella formazione, nella formazione tecnica come elemento per mantenere l'eccellenza che abbiamo oggi, ma dobbiamo mantenerla anche per il futuro. Consiglio di dare a questi ragazzi la cosa più importante da avere in mente quando uno cerca di orientarsi un po', quale sarebbe secondo lei? Quello che io predico da sempre, ragionate con la vostra testa, siate curiosi, non credete a niente ma approfondite ogni argomento perché è solo con la curiosità che si rompono le barriere e che si arriva a capire il perché delle cose e si arriva all'eccellenza, che è il nostro cavallo di battaglia. Ci sono forse un po' troppi cliché negativi da sfatare sulla cultura tecnica? Oggi siamo troppo immersi in una narrazione che non aiuta a capire bene e quindi bisogna fare che cosa? Bisogna sfatare molti cliché, a cominciare dal fatto che la velocità, il progresso sta andando ad una velocità superiore, decisamente superiore alla media, questo lo sappiamo, però quello che dobbiamo essere un pochino più modesti perché noi non sappiamo quello che sarà il futuro. Quindi dire che il lavoro in fabbrica è faticoso, che il lavoro in fabbrica è sporco, che il lavoro in fabbrica provoca incidenti sui lavori, innanzitutto non è vero, non è vero per la Metal Castello e non è vero per tutte le aziende eccellenti che abbiamo nel territorio, quindi sarebbe un puntare il dito su qualcosa che non esiste, ma poi come fai a dire quello che sarà il futuro? Ma il futuro potrebbe essere di gente che lavora da casa governando delle macchine con dei robot, quindi chi può contradirmi?